Il nostro impegno è permettere a questa generazione di riunirsi più spesso, di farlo al fianco delle istituzioni. Saremo anche futuro, ma già nel presente possiamo contribuire alla crescita delle nostre comunità. La nostra provincia è una provincia complessa, non si governa da soli, ma si governa insieme. La maggior parte degli studenti nostri abitano fuori Grosseto. Vi chiediamo una maggior cura dei trasporti. Se possiamo fare qualcosa, ecco noi ci siamo. Abbiamo un compito importante, cioè riuscire a gestire insieme all'istituzione e agli enti i fondi del PNRR. Quindi è importante, secondo me, aumentare questa collaborazione fra noi e voi enti, affinché tutti i ragazzi sappiano dove si può andare a risolvere un problema e dove no. La Repubblica siete anche voi. Il volto di quella Repubblica è sì il nostro, ma è anche il vostro. Grazie. Grazie.